Continuano i disagi assapri per gli utenti di poste italiane. Dopo l'incendio verificatosi all'ufficio di Via Nicotera il 22 agosto scorso, la riapertura dello stesso, che doveva avvenire a partire dal 1 settembre, verrebbe invece ancora ritardata con una proroga di 10 giorni, così come richiesto dalla responsabile dell'ufficio postale Saprese. Il sindaco Giuseppe Delmedico, però infuriato per come è stata gestita l'intera vicenda, ha scritto una lettera indirizzata ai vertici di poste italiane e inviata venerdì 2 settembre. Nella nota il primo cittadino si dice amareggiato di tutto e riferisce di non aver ricevuto mai nessuna comunicazione circa i tempi di chiusura dell'ufficio postale e che solo in via informale è stato avvisato prima della sospensione del servizio fino al 31 agosto e poi della necessità di prolungare la chiusura dei locali per un tempo non definito. Tutto ciò è intollerabile, dichiara Delmedico. L'ufficio di Sapri è fuori uso da quando nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 agosto rischiò di essere completamente distrutto dalle lingue di fuoco, provocate molto probabilmente da una macchinetta del caffè lasciata accesa. Ad accorgersi delle fiamme furono i residenti che, vista la fuoriuscita di fumo nero dall'interno della struttura, allertarono i vigili del fuoco che nel giro di poco tempo riuscirono ad evitare il peggio. Da quel momento le saracinesche dell'ufficio sono rimaste abbassate per i dovuti lavori che si dovevano ultimare entro la fine di agosto. Ad oggi però le poste di Sapri non sono entrate ancora in funzione, il comune non ha ricevuto nessun riscontro ufficiale dopo la lettera spedita ai vertici di poste italiane e i cittadini sono ancora costretti a dirigersi a tre chilometri di distanza per usufruire dell'ufficio postale più vicino, quello di Villammare, dove le lunghe file non fanno che alimentare caos. Giuseppe del Medico spiega che finora l'ente per aiutare le fasce deboli a raggiungere il paese limitrofo ha attivato a suo carico un servizio di trasporto che, precisa il sindaco, continuerà ad essere garantito perché non possiamo lasciare i nostri anziani diversamente abili senza assistenza. Ora però, conclude del Medico, si chiede a poste italiane di fare quanto possibile per porre rimedio ad una situazione grottesca.